Riscoprire i compositori dimenticati dell'Ottocento. E' questo il tratto distintivo della prima edizione del Festival Nazionale Il Bel Canto ritrovato, pronto ad esordire martedì 23 agosto al Teatro Rossini per il primo di 11 appuntamenti che proseguiranno fino al 10 di settembre. Oltre a Pesaro ad ospitare questa avventura immersa nell'opera saranno anche le città di Fano, Urbino, Osimo, Arcevia e Montemarciano per un festival nato dall'idea di Rudolf Colm, appassionato di bel canto, affiancato da Saul Salucci, presidente dell'orchestra sinfonica Rossini. Sono compositori e composizioni che all'epoca ebbero un grandissimo successo, tant'è vero che frequentavano i luoghi di cultura più importanti dal Teatro alla Scala al Teatro Valle di Roma al San Carlo di Napoli, quindi in quel momento erano allo stesso livello dei tre big che oggi ricordiamo Rossini, Donizetti e Bellini. Poi la storia come spesso accade traccia una riga e alcuni vengono ricordati e altri no. La nostra operazione è cercare di riscoprire questo enorme patrimonio tutto italiano, va detto, che desta tanto interesse soprattutto all'estero, per cui abbiamo già avuto tante richieste di spettatori stranieri per partecipare agli appuntamenti. Sì, saranno 11 spettacoli al pubblico, ne ricordo alcuni, il 23 si debutta con la farsa cecchina suonatrice di Ghironda o con musica di Generali, direttore Daniele Agima, la regia di Davide Garattini Raimondi. Poi abbiamo uno spettacolo a Fano dedicato al Teatro della Fortuna, dedicato agli operisti marchigiani, nell'otto di questi compositori che andremo a riscoprire, che sono circa 50, molti erano marchigiani. Poi due concerti lirico-sinfonici con l'orchestra, quindi l'orchestra sinfonica Rossini, che è organizzatrice, l'orchestra di riferimento del Festival. Il primo, il 25, al Teatro Rossini, la serata in cui proprio eseguiremo musiche che sono state eseguite addirittura, certe volte, alle prime della scala. Il 27 ad Urbino, un altro concerto con orchestra, che riproporrà il modo di fruire musica che si faceva al di fuori dei teatri. Sarà un modo molto fresco di proporre tanti diversi generi all'interno sempre di questo periodo di riferimento. La direzione artistica del Festival è stata affidata al noto direttore artistico dell'orchestra sinfonica Rossini, Daniele Agiman. Vuol dire un lavoro di ricerca musicologica, andare alle fonti, riscoprirle, ripulirle, darle in mano a un grande musicologo che le possa riportare in notazione moderna e poi farle studiare a interpreti che non conoscono l'opera. Quindi un'avventura di riscoperta a tutti gli effetti, a 360 gradi, che investe tutta una struttura operativa.